Il Ponte Edera espugna l'arena Garibaldi e stacca il pass per il secondo turno di Coppa Italia Serie C decide la rete a inizio ripresa di Pinsauti, che condanna il Pisa all'eliminazione. Gara caratterizzata da un ampio turnover da parte dei due tecnici che hanno dato spazio ai giocatori meno utilizzati in campionato. I padroni di casa sfiorano subito il vantaggio con Cernigoi, che colpisce la traversa da buona posizione, ma è solo una illusione. Col passare dei minuti i nerazzurri si spengono, e solo nel finale, hanno un moto di orgoglio, ma sulla conclusione a colpo sicuro di Cuppone è prodigioso il salvataggio sulla linea di risaliti. A qualificarsi è il Ponte Edera che nel prossimo turno se la vedrà con la lucchese.